nuovo brand del gruppo amazon i caro così si chiama che fa occhiali da sola e questa volta e questo è uno dei prodotti che non sono ancora in vendita ma che sono disponibili per il momento solo per la recensione per cui non ho idea del prezzo perché non è ancora esposto e non c'è neanche uno storico andiamo ad aprire la confezione di questo prodotto si tratta di occhiali da sola e ce ne sono veramente di tantissimi modelli qua in confezione non c'è più null'altro abbiamo un tester per i raggi uv per verificare il funzionamento dei raggi uv e poi il panno con il suo contenitore in cui riporli e naturalmente qualche riga di manuale che vediamo un po per curiosità che cosa è riportato intanto la lingua italiana non c'è c'è tedesco polacco inglese lux che non so che lingua sia il che è scritto tra l'altro a testa in giù è scritto in arabo nl e sfr ma l'italiano qui non è presente guardiamo solo in lingua inglese se c'è qualche informazione essenziale da sapere come usarli warning cleaning e maintenance e preservation quindi indicazioni generiche e poi loro gli occhiali veri e propri primo impatto che ho avuto belli mi sono mi sono piaciuti perché non è tutto plasticoso come potrebbe sembrare cioè la montatura nella parte frontale ha una grossa prevalenza di plastica e praticamente tutto anche il nasello e anche i naselli qui all'interno sono in plastica non sono regolabili anche qua il ponte tra le due lenti non è regolabile però la parte delle bacchette che vanno verso le orecchie lo vedete non è in plastica è metallica e anche la cerniera è metallica si incastrata sulla plastica e chi mi segue sa che non sono un amante dei doppi materiali perché generalmente sono poi dei punti di rottura in cui cedono in un qualche modo però devo dire che il risultato beh niente male andiamo a vedere il tester con questi occhiali metto alla telecamera gli occhiali in questa maniera difficile tenerla ferma ed ecco il tester che si avvicina e che vede un qualcosa all'interno che cosa ci sia di disegnato non lo saprei raccontare più di tanto anche perché la parte centrale sembra essere stata graffiata e quindi che ha qualcosa vedete al centro che è stato graffiato francamente non vedo grosse differenze con e senza questo occhiale se dovessi descrivere quali sono le differenze in questo tester ah beh sì dal vivo visto dal vivo e non con la telecamera qui c'è un pescatore con un pesce e quindi lui è il pescatore quella è un po' la lenza che va e qui c'è un pesce nel mare quindi quello che sembrava essere un difetto è un graffio e lo vedete è un pesce che viene abboccato visto dalla telecamera onestamente non gli darei grande peso però visto dal vivo effettivamente si vede però al netto del tecnicismo beh riflettono si vede attraverso questi occhiali beh sì si vede un po' attraverso quindi si vedrà dove state guardando perché non sono totalmente riflettenti dall'altra parte come sono beh io l'ho provato in un pomeriggio di sole non mi è piaciuto granché il fatto che lateralmente essendo piatti sono piuttosto dritti come occhiali non sono curvati con la sagoma del viso essendo piatti dagli spigoli dalle parti laterali non solo entra la luce ma guardando con l'occhio si ha il riflesso della luce che ci batte contro non mi è piaciuta questa cosa in tutta onestà marchiatura CE con categoria 3 è riportata qua sulla bacchetta dell'occhiale e di qua invece null'altro se sono degli occhiali che costano poco per una stagione secondo me questi valgono anche la pena se costano in maniera un po' troppo impegnativa onestamente preferirei un modello che nel lato interno non rifletta la luce come invece ho visto fare su questi occhiali